Boom di nuove abitazioni. Nel 2006 20.000 in più a Roma. La capitale ha i primi posti per numero di nuove unità abitative. Lo dice il rapporto sulle costruzioni nel 2006 appena pubblicato dall'Agenzia del Territorio. La città è in continua espansione, pur mantenendo dimensioni small. Infatti crescendo i prezzi calano i metri quadrati. Nei piccoli comuni le case grandi sono la Prassi. A Roma invece, soprattutto a causa degli alti prezzi di mercato, solo il 7% delle nuove abitazioni è maggiore di 120 metri quadri, ovvero con più di 7 vani. Le più numerose sono le piccole, cioè le case tra i 45 e i 60 metri quadri, seguite dalle medie tra i 90 e i 120 e dalle medio piccole tra i 60 e i 90. Tanti anche i monolocali, il 12% del totale. Grazie.